ho riuscato pure a balle della palestrina a me è da palestrina si però stava staccato a palestrina ha lasciato il pulmo è pulo giù comunque Marcella com'è che quella mi ha vinto così tanto che si è preso in quest'ora? io sto dietro, la ieri sto dietro oggi hai interrotto la domanda il 5 marzo è la dietologa la dietologa le prende 5 kg per farmi muovere che ha la figlia dietologa mi vuoi ne ha perso il circo? ma quello ve lo ha detto un chiaro sintomo insomma no ma non devi guardare a me a Pauso non vincere la causa da 2 anni pure tu lui qui non ci vanno tutti andiamo a cena insieme perché non è facile Giorgio tu c'è vento qui all'aeroporto c'è uno scuro che è bagnato faccio l'acqua 2-5 non lo so ancora c'è il covid non lo so se posso si muovere lui si troppi coglioni di San Marino io sono legato a Fausto come cazzo chiamo? non so se posso siamo legatissimi infatti non ci vogliamo l'appuntamento manchiamo le 9 si che ha appuntamento tanto si vuole andare con le 9 e 4 e così è stato l'appuntamento fausto che mi dice domenico che mi dice soggetto assurdo sono 15 anni che vinci la causa vabbè 20 sono ventati sono ventati con me la vieni ciao ho preso una multa a Giorgio stavo a 304 all'ora famosissima stavolta e come ha fatto a Piacenza perché si chiama Ferrarisi ci si faceva a Piacenza mi fissa a Piacenza e mi chiede ma mentre all'11 dice che c'è Uyx ci ha spostato l'11 adesso vabbè con Roberto Lutti che ti sei portato? Roberto Lutti lo porta pure e di Nespesi no ha pagato l'uno lo pagavo io ha portato l'uno come è c'è se lo hai chiamato se lo metto stasera no l'ho chiamato ma non mi ha dato non mi dà la caccia Lui mi fa, oh il giudice di base, si chiama Peretti, non entra, vabbè, come avremmo ho detto arrivare io. Signor giudice, magari avete Peretti. Ma ha detto, ma ha detto, ma ha detto. Hai volito solo perchè, hai volito perchè quelli del comune sono lì in Italia, ma quello avete già fatto eh. No, poi ti ha detto, non mettere i ribossi, questo è il parmigiano che io compro, si è preso mezza legge mila. Che c'hanno quell'arri? A un grande, a un grande, a un grande. Che negozio è quello? Un negozio è legge mila. Un negozio è legge mila. E' veramente una bella location, perchè rispetto al peperoncino dove stiamo lì, in mezzo alla stanza, qui c'è pure il divanetto. Se ti fai mettere uno o due, perfetto. Se ti fai mettere i soldi. Eh, tu via, qua eh. Che colpa mia? Che colpa mia? Che colpa mia? Se l'ha così eh. Che, che! Oh! No, eh! No! Ci vedi! No, no, no! Che ti pubblichi questa cosa? No, ma non pubblico. No, no! Te hanno visto però. No! Non pubblico niente! E che cazzo guardi da me? Che niente! Non ti ho visto! Hai fatto! Ma non ti hanno visto! No, no! Non pubblico niente, ma che però ho ripreso tutto. Come dicevo, a memoria storica? Si. Sì, non so. Sì, non so. Guarda che tanto. Gigi, sei lei. No, no, no. Non so come ti piace? Andrea? Andrea fa un passaggio. È simpaticissimo. Mi sei lavorato su un passaggio e cazzo di noi. La prossima cena, pure figlio. Sono da Juve, sì. Perché, ragazzi? Oh, mica ti diamo givati noi, eh? Ma perché mi assimiliamo? Mi stai a dire più che sono da Juve. No, sono tutti fosti dalla Roma. I morti. I morti. Con tutti i carrozzieri. Ognuno deve scegliere quello che... Ma che è sta democrazia? Che scegliere? Si è finta democrazia. Ma si che c'è morto il prosecco? Chi è morto? Cisci non c'ha più.